Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci spostiamo? Grazie. Vi ricordiamo sempre che facciamo anche noi il nostro stesso lavoro. Stiamo tutti per in più volentieri a casa. Ma comunque per la sicurezza. Sì, ma abbiamo un articolo su quello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti sentiamo dopo, ok? Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Al momento non rilascio di protezione. Io di questo non posso... Guardi di finanza, chi c'è? Guardi di finanza, siamo di Cenusco Lombardone. Ah. Quindi la competenza è l'eco. Sì. Va bene? Va bene, grazie. Mi piace. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie mille. a metà fuoco che non è venuto a sistemare la porta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.